Ma all'interno di RealFlow possiamo anche utilizzare una shelf dedicata proprio a Spline nella quale praticamente troviamo la possibilità di disegnare delle Spline di importare dei file SVG che sono dei file vettoriali scalabili di trasformare l'SVG direttamente in un Spline o di importarlo come una E-Spline o un diverso E-Spline che differenza c'è? Che cosa sono le Spline e il diverso E-Spline? Sono praticamente gli emettitori Se torniamo un attimo in diverso vediamo che abbiamo Spline e Create Text Spline praticamente se vado a crearlo noto che lo vado anche ad agganciare momentaneamente sostanzialmente è un emettitore che ha una forma Spline che emette con dei parametri che sono molto simili a quelli del di Spline ok? Sostanzialmente ho la possibilità di emettere direttamente dalla Spline ok? Quindi questo è molto comodo per poter andare a realizzare per esempio il profilo di una cascata e poter emettere in base a quel profilo lì questo è un esempio di conseguenza abbiamo anche il testo che può essere generato e creare degli emettitori a testo logicamente queste sono considerate come se fossero delle Spline e all'interno di RealFlow abbiamo sia l'emettitore Spline classico quindi Standard Particles e di diverso abbiamo anche il testo sia di Standard Particles che di diverso e di conseguenza abbiamo anche il di Spline come test come daemon e possiamo crearlo anche direttamente però concentriamoci un attimo su Spline ok? quindi resettiamo un attimo la scena nascondiamo orvelocemente i nostri componenti in scena e se io clicco su Spline vedo che non ho assolutamente nulla quindi devo andare a disegnare la mia Spline di conseguenza noto anche che quando vado a selezionare il Tools Spline in automatico entra già in modalità Edit con il suggerimento che Edit Mode Ctrl plus right click add points hold down control while mouse hover line to display hit and add points drag after adding and new points to controls handles cioè quando io vado a cliccare con il tasto control e il tasto destro del mouse vado ad aggiungere dei punti mentre con hold control posso comunque tenendo premuto posso andare a creare questi e tracciando tenendo premuto control e tracciando con il con tenendo anche premuto il destro del mouse posso andare a creare il Berzier quindi andare a creare queste forme differenti quindi io posso disegnare volendo queste Spline una volta che ho disegnato queste Spline posso anche uscire dalla modalità Edit posso tornare in modalità Edit posso prendere un punto col comando Move posso spostarlo quindi come le Spline che abbiamo visto precedentemente con un grandissimo vantaggio però quello che io posso andare a disegnare le forme che voglio ok ora vado a fare qualcosa molto molto velocemente e poi posso andare a dire al mio Spline come avevamo visto precedentemente qui abbiamo il Spline che posso rendere visibile ok magari possiamo fare anche una cosa possiamo anche prendere scondiamo il Spline e li sposto qui di lato non fare da non creare troppa confusione visiva ma lo metto proprio molto lontano ok una volta che io rientro nel di Spline noto che ho il Copy Spline Copy Spline si apre questo pannello galleggiabile nel quale io posso scegliere il di Spline che in questo caso se stesso quindi copia se stesso come posizione o Spline 0 1 se faccio ok praticamente lui mi sposta tutto quello che ho organizzato disegnato sopra la mia sopra la mia Spline ok e logicamente va anche a aggiustare andiamo a vedere ok è rimasto lì comunque va anche ad aggiustare i vari punti nel senso che se questa Spline ha 5 punti va ad inserire 5 raggi 5 cerchi e non 10 come magari ne aveva prima questo è molto comodo poiché io posso disegnare le mie Spline disegnarle precedentemente e poi dopo assegnare perché abbiamo visto che non era molto semplice poi alla fine in realtà il tempo per disegnarla associare il di Spline è lo stesso diciamo che il grande vantaggio quale potrebbe essere che magari un mio collaboratore può disegnare le Spline e io poi dopo in un secondo momento se ne ho bisogno vado ad associare le varie il di Spline il Demon Spline logicamente l'ideale sarebbe importare un SVG che magari viene creato esternamente per poi lavorarlo al suo interno un'ottima che magari